Abbiamo deciso di riportare questa scritta che secondo noi è importante, dove c'è scritto Reparto Pediatria di Arezzo, la vostra passione e il nostro futuro. Una donazione da parte dei tifosi al Reparto di Pediatria dell'ospedale San Donato di Arezzo. Si tratta del ricavato del torneo del PAO edizione 2024, una grande festa a Maranto in ricordo di Francesco Paolucci, tifoso scomparso nel febbraio 2004. Lavorare sul ricordo penso che sia la miglior soluzione e soprattutto sui ragazzi, sui giovani e ci sembrava giusto proprio partire dai più giovani, aiutarli, sostenerli per poi far sì che un giorno possano venire in curva con noi anche. Quanto avete raccolto? Abbiamo raccolto 1500 euro, quindi abbiamo alzato la sticella in confronto all'anno scorso, il torneo in sé per sé ha alzato la sticella, quindi siamo molto contenti, molto soddisfatti. Hanno fatto una raccolta importante, la cifra destinata sarà impiegata in macchinari al servizio dell'assistenza dei bambini. I bambini che assistiamo sono tanti, sono non solo quelli della comune o della cerchia ristretta di Arezzo, ma sono bambini che provengono da tutta la provincia, quindi aree Valtiberina, il Casentino, la Valdichiana e con numeri elevati, 12.000 circa accessi all'anno in pronto soccorso, circa 500 ricoveri in degenza ordinaria, 1.500 ricoveri in degenza breve, hobby e tutte le attività degli ospitali e di priglievi degli altri. La bella stagione ha allentato la pressione sul reparto? Sì, l'allentata le dirò solo negli ultimissimi giorni, perché noi fino a tutto giugno eravamo come a febbraio, quest'anno complice il tempo e quindi anche la morbidità infettiva, come si sa risente anche del clima.